salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi facciamo il test con l'app san zino con la modifica che gli ho fatto qualche giorno fa vi ricordate il video che avevo fatto poi ve lo lascio qua sopra nelle schede dove avevo schermato la ricevente dell'app san zino con una schermatura in rame come dovrebbe essere lo zino pro quindi l'ho fatto su questo zino standard chiamiamolo così e vediamo come si comporta in un range test avevo fatto il range test qua mesi fa la location è la stessa era arrivato circa a un chilometro mancavano pochi metri a un chilometro però ragazzi mi raccomando questi range test non fateli perché comunque innanzitutto non andrebbero fatti e poi sono diciamo pericolosi anche per il vostro drone ovviamente se proprio li dovete fare perché avete la necessità fateli in posti tipo questo dove al massimo vi perdete il drone ma non fate male a nessuno una zona di boschi tipo questa o un campo lunghissimo dove c'è tutta una serie di campi coltivati o nel mare cioè in location di questo tipo e ragazzi mi raccomando non fate range test in zone dove se il drone dovesse cadere fa male o fa danni a qualcuno mi raccomando questo è importante ragazzi quindi oggi rifacciamo lo stesso test nella stessa location stessa situazione e vediamo come si comporta con questa schermatura ovviamente questo non è un test definitivo nel senso che la schermatura magari potrebbe essere più utile in zone magari con più interferenze magari qua non ce n'è tante non lo so però giusto per fare un confronto sono venuto nella stessa location di mesi fa dove ho fatto questo range test quindi ragazzi adesso preparo tutto e decolliamo in questo abstanzino e con schermatura in rame e vediamo come si comporta con questo range test decolliamo ragazzi ok ragazzi tutto è pronto abbiamo i satelliti necessari per decollare quindi non ci resta che decollare andiamo all'altezza di 50 metri che era l'altezza che avevo fatto il test dell'altra volta ok siamo a 50 metri possiamo andare siamo a 320 metri tutto va bene per adesso il ritorno d'immagine ragazzi è ottimo devo dire che si vede bene non sta laggando in maniera particolare direi che è fluido per essere l'apsanzino che è diciamo non è un mavic per intenderci o un parrot un autelivo inizia un po la l'immagine a sgranare siamo a 600 metri ragazzi sì diciamo che per essere un drone che in fcc non è che abbia una portata paura perché se lo paragoniamo al phim x8 che è in modalità ce e ha un range molto maggiore ma ricordiamoci che questo drone è in fcc quindi il range diciamo è sotto allo standard di un fcc adesso con l'apsan pro arrivano a 4 chilometri ma non è che sia un evento perché in fcc a 4 chilometri ci arrivano un sacco di droni praticamente tutti ciao i droni di importanti siamo 870 metri e per adesso va tutto bene ancora qualche un po di lag però l'immagine buona muoviamo anche la telecamera per e non è male perché guardate come si muove la fluida la telecamera ragazzi devo dire che siamo a 964 metri inizia la gara adesso inizia la gara adesso siamo quasi al chilometro e si è disconnesso quindi adesso dovrebbe ritornare anche perché poi è andato oltre al chilometro quando si è disconnesso che è andato avanti ancora un comunque è andato oltre il chilometro adesso sta tornando devo dire che ragazzi si è comportato bene perché anche la telecamera fino all'ultimo si è mossa in maniera fluida vedete che anche adesso sebbene siamo a 700 metri guardate la telecamera come si muove fluida sì il ritorno d'immagine non è un hd bello definito ma quello l'ha sempre avuto l'apsanzino è un hd ma non definito quello però è diciamo sempre stato così non è l'hd per intenderci del mavic air che in hd non ha questo ritorno d'immagine o anche non so il paro tra la fia ritorno in hd ma non è così è più definito sebbene ma vabbè mavic produe auteliva non ritorno addirittura in full hd nel telefono però anche nel non essere definito però avete visto come la telecamera si muoveva ancora fuori da fino all'ultimo comunque il chilometro l'ha passato mi sono accorto dopo che diciamo prima di fare il turn to home avete visto che aveva passato oppure il chilometro quindi per chi ha dubbi sul range test oggi probabilmente non ne ha più è ormai sta arrivando sta arrivando vediamo però non l'ha sbagliato di tanto il landing direi che ha sbagliato di pochissimo per essere andato un chilometro e essere ritornato e non aveva neanche attivato il precision landing direi che si è comportato benissimo praticamente era sbagliato veramente di poco adesso metto via tutto e tiriamo le conclusioni ok ragazzi questo range test con l'apsanzino è finito le conclusioni sono che ha passato il chilometro che la fotocamera si muoveva fluida anche quando si stava avvicinando al diciamo alla disconnessione che ha fatto il return to home in maniera ottima è arrivato praticamente sul landing è andato un chilometro è tornato sul landing tanta roba da quel punto di vista non so se gli è andata un po di fortuna o meno all'apsanzino però l'ha fatto non so se la copertura nel rame abbia migliorato o peggiorato perché vi ricordo che anche qua ho fatto il test ed ero arrivato quasi alla stessa distanza forse qualche metro in meno devo dire che qua comunque il chilometro l'ha passato poi sul finale prima di ritornare il chilometro l'aveva passato quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale questo range test con la copertura in rame dell'apsanzino vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non avete ancora fatto e se vi va e ovviamente iscrivetevi su questo canale youtube non perdevi neanche un video un buon recensione un test ciao